La processione delle palme per ricordare l'ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme e il racconto evangelico della sua passione sono stati i due momenti principali della celebrazione in piazza San Pietro che, ha detto il Papa, ha un doppio sapore, dolce e amaro. Un ostrogente contrasto del cuore che forse anche Gesù visse in quel giorno sapendo della sua fine. Un Gesù ha ricordato Francesco che non è un illuso che sparge illusioni, un profeta New Age, un venditore di fumo, ma un Messia ben determinato, il servo di Dio, è il grande paziente del dolore umano. Gesù non ha mai promesso onore e successi ma la vittoria attraverso la croce. Per seguirlo, ha aggiunto il Papa, non si può rifiutare la croce, buttarla via ma sopportarla ogni giorno guardando Lui. E questo Gesù che accetta di essere ossanato pur sapendo bene che lo attende e il crucifige non ci chiede di contemplarlo soltanto nei quadri o nelle fotografie, oppure nei video che circolano in rete. No, è presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi, patiscono sofferenze come Lui. Soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i drammi familiari, soffrono per le malattie, soffrono a causa delle guerre e del terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Gesù è in loro, in ognuno di loro. E con quel volto sfigurato, con quella voce rotta, chiede, ci chiede di essere guardato, di essere riconosciuto, di essere amato. A termine della Messa la recita dell'Angelus e con il saluto a tutti i giovani del mondo che in questa domenica celebrano la giornata della gioventù. Poi al passaggio della croce della GMG, dei Polacchi e Panamensi, con l'auspicio del Papa che là dove passerà faccia crescere la fede e la speranza, rivelando l'amore invincibile di Cristo.